MoniCart ci ha appena mandato questo stupendo regalo Regalo, regalo Che ha una sua opera d'arte Ora andiamo a fare L'unboxing Andiamo Forbici Ok Paglia Pagnolino Eccolo qua No No Ma è meraviglioso Ma è stupendo Si faglielo vedere anche a loro Guarda cos'è No è stupendo Facciamolo vedere bene Ma sei fantastica Cari nerdaioli e nerdaiole Guardate che bellezza MoniCart è meraviglioso Guarda cos'è Grazie per la visione!